I carabinieri del reparto territoriale di Gela per promuovere la cultura della legalità hanno incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Salvatore Quasimodo e della scuola Giovanni XXIII per parlare dei rischi legati al bullismo e al cyberbullismo. Esempi di comportamenti devianti che avvengono tra ragazzi e adolescenti di cui si è parlato per comprendere quali fossero gli atteggiamenti antisociali attuati anche con l'uso della rete, valutando gli studenti e le conseguenze. E poi i carabinieri hanno fornito ai ragazzi indicazioni per il corretto uso degli smartphone e di internet per adoperare quelle azioni fondamentali per prevenire i casi di bullismo e cyberbullismo. Così gli uomini dell'arma hanno sottolineato l'importanza del dialogo tra studenti e genitori, ma anche tra studenti e insegnanti e dirigenti scolastici e forze dell'ordine e di come eventuali situazioni di disagio debbano essere immediatamente segnalate per poter essere gestite nel migliore dei modi. L'incontro è stato poi ripetuto anche con gli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Leonardo Da Vinci di Niscemi per discutere delle insidie del web e su come prevenirle.